È un momento importante per la nostra città proprio per iniziare la stagione. Il nostro 28esimo vessillo, quindi la nostra 28esima bandiera blu, che poi dietro la bandiera blu ci sono tanti aspetti, soprattutto la sostenibilità ambientale, la qualità della spiaggia, la qualità delle acque, la pulizia delle acque e della balneazione, tutta una serie di raccolta differenziata, tutta una serie di parametri che vengono valutati attentamente e che ci permettono ogni anno, ormai da 28 anni, di avere questo importante riconoscimento che poi contraddistingue la nostra località e naturalmente che sia anche di buon auspicio per l'inizio di questa stagione balneare.